Per quanto riguarda la regione Infrae di Venezia Giulia, l'obiettivo del progetto è quello di avere una politica industriale che spieghi perché e come la manufattura Infrae di Venezia Giulia può eccellere. Il coinvolgimento di Ocse ci garantirà di avere un quadro internazionale per identificare i territori a cui assomigliamo di più, territori che stanno eccellente e che hanno già sorpassato il momento di difficoltà e poi Ocse potrà anche dirci in che cosa ne potremo accelere, in che cosa ne potremo primeggiare rispetto ad altri interlocutori.